e poi io la fumo, la accendo, se mi vado e qua non mi vado e su come prima non mi vado, da tutto questo imputato, vi proibisco di accendere la pipa, uscire proprio dentro imputato, imputato, non cedete la pipa, mi sono toglie imputato, vi attento per accendere la pipa, mi sono toglie e poi ci sono i tuoi piaciuti, ci sono i tuoi piaciuti e mi lo sento e stai nel suo punto la pipa il signore ha ripreso in tutta la stanza che lei mal giudica e la vedanza fa male E poi, che vuoi che fai? Adesso il buono. Beh, considerano che la pimpia della polos dei miei si è un cuore stretta e considerano che sia la pimpia stretta un cuore stretta, un cuore stretta di pari che è un fatto, non ha detto no. E va che il ragazzo è un ruolo di giudato e che è un ruolo di giudato. Tutto è un ruolo di giudato. Avete ragione, scusatemi. Gerolamo Salcafosso, detto che la vita in aula è evitato fumare, specie della gannata pinta. Non mi ha scusato il suo cuore. Adesso lo sapete. E poi, con il mio lato d'occhio e non c'è nulla e adesso le mie le ditte le dobbiamo avruggere. Anzi, non è che non è la corsa. No, ma il resto, non c'è nulla, è che non viene la corsa. Bene, ed ora toglietevi.